Non sono bastati due set giocati testa a testa all'ITES per conquistare il primo punto in questa difficile a uno femminile. Al Palaradi di Cremona, nella terza giornata di andata di regular season, Trento si inchina in tre parziali al cospetto di Casal Maggiore. Tra le buone notizie, persino i Valdi, il recupero di Olivotto al centro della rete, mentre Zago vince il ballottaggio con The Hog e si accomoda in diagonale alla regista Guiducci. Confermate Micheletto e Scerban in banda, Moretto in posto 3 e Libero Parlangeli, dopo aver lottato per due frazioni che si chiudono entrambe 25-22, le Giallo-Blu si arrendono mestamente nel terzo set che le Lombarde vincono 25-13. Grande rammarico in casa Giallo-Blu, soprattutto per l'epilogo di un secondo set che l'ITES Trentino ha condotto nel punteggio fino al 14-17, trovandosi anche a più 5, ma subendo poi il prepotente ritorno delle padrone di casa. Tra le fila Giallo-Blu in doppia cifra, la schiacciatrice Scerban con 10 punti personali, mentre The Hog, che subentra gara in corso, realizza 6 punti col 37% in attacco. Casal Maggiore è forte di un servizio particolarmente incisivo, 8 gli ace per creare grattacappi al cambio palla Trentino, migliore in campo Smarzec con 14 punti e due muri.